Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Il 2022 ormai è quasi finito e è arrivato il momento di tirare le somme, di fare un bilancio di tutti i prodotti che abbiamo amato e usato di più e di fare, di eleggere insomma i vincitori per ogni categoria. Io ho deciso, visto che è la mia prima volta che faccio questo tipo di video, di suddividere i miei preferiti in base alle fasce di prezzo. Quindi farò un video sui miei preferiti, sui miei Oscar 2022 del make-up per quanto riguarda il low cost e mi riferisco in particolare ai prodotti che rimangono al di sotto dei 15 euro. Poi farò invece un video dedicato ai prodotti di fascia media, quindi dai 15 ai 30 euro e infine farò i prodotti high end. In generale devo dire che questo è stato un anno ricco di sorprese, per quanto mi riguarda, dove ho scoperto tanti prodotti che mi hanno soddisfatta, mi hanno stupito, mi hanno veramente rapito i sensi e che mi hanno regalato veramente delle gioie. Quindi in generale il bilancio di quest'anno per quanto mi riguarda è stato estremamente positivo perché quasi tutti i prodotti che ho provato mi sono piaciuti, ho scoperto delle chicche low cost che veramente non hanno nulla da invidiare ai prodotti più costosi e in generale sono stati molti di più i prodotti che mi sono piaciuti rispetto a quelli che non mi sono piaciuti o che non sono stati all'altezza delle mie aspettative. Di bocciate ne ho veramente pochissimi, solo po'. Veramente si possono contare forse sulle dita di una mano. Quindi direi che quest'anno è stato un anno assolutamente positivo per quanto mi riguarda. Iniziamo subito. Allora, il vincitore della categoria fondotinta low cost è, chissà se ve lo aspettate, ma credo proprio di sì, questo fondotinta di Catrice, l'HD Liquid Coverage Foundation. Per me questo fondotinta è stata una scoperta incredibile e su di me ha una performance che non ha nulla da invidiare a fondotinta più costosi. Come accennavo in un mio precedente video, con l'età, anziché avvicinarmi, anziché preferire delle basi più luminose, più idratanti, praticamente sto sperimentando le basi un po' più opache e asciutte. Questo fondotinta in effetti viene consigliato principalmente per le pelli miste o grasse perché è abbastanza asciutto come finish, è abbastanza opaco. In realtà io lo riesco a usare tranquillamente, non mi secca assolutamente il viso, non mi si crepa, non mi evidenzia le secchezze, non mi evidenzia le rughe, non mi evidenzia nulla, ma al contrario fa un effetto perfezionante, levigante dell'incarnato veramente straordinario. È molto sottile, praticamente invisibile a occhio nudo, però siccome ha una coprenza medio alta, c'è una buona coprenza, ne basta pochissimo praticamente per avere un effetto pelle perfetta, quasi photoshoppata. Quindi mi è piaciuto tantissimo. Io non avendo la pelle particolarmente grassa, non lo vado neanche a settare e non mi si sposta, non mi lucida. È un fondotinta straordinario. Io l'ho provato per caso, per curiosità, perché ne parlava Giulia Cova in termini entusiastici ed effettivamente non posso che confermare. Tra l'altro questa è una riformulazione che è stata arricchita con neocinamide, quindi ha anche un effetto trattante. In effetti le caratteristiche di questo fondotinta sono, da claim sulla boccetta, dura fino a 24 ore, è mattificante, è resistente a acqua e sudore ed è arricchito con neocinamide. Quindi un ottimo prodotto, ma secondo me anche in estate si rivelerà un ottimo alleato. Io purtroppo ho sbagliato la colorazione perché l'ho presa nella colorazione troppo chiara per me, che è la 010 Light Beige, ma riesco a scurirla con il di Bronzy di Drunk Elephant o con un fondotinta più scuro e devo dire che il risultato mi soddisfa al mille per mille. Un correttore veramente low cost, ma veramente low cost, che mi è piaciuto da impazzire e che quindi per questo si aggiudica l'Oscar come migliore prodotto della categoria correttori, è il Fluid Concealer della linea Pure Beauty di Astra. L'ho usato veramente tanto quest'estate nella tonalità più scura numero 3 e mi è piaciuto talmente tanto che l'ho voluto prendere anche nella tonalità 02, quella più chiara. È un correttore molto idratante, adatto a un contorno occhi maturo, per nulla secco, molto sottile, che non evidenzia le rughe, che su di me non ha bisogno di essere settato, non ha un'alta coprenza, direi leggero media, ma per le mie esigenze va benissimo quando ho una base molto naturale. Per me vince a mani basse perché ha il miglior rapporto qualità-prezzo, cioè il rapporto a quanto costa, io addirittura l'ho preso 3,50 euro, costa, penso, a prezzo pieno 3,90 euro, io l'ho preso anche a 3 euro, 3,50 euro, ma fa egregiamente il suo lavoro. Tra l'altro mi torna utile nei ritocchi, perché quando magari il pomeriggio ho una visita da un cliente, ho bisogno di ritoccare il correttore, perché nel frattempo magari mi si è sciolta un po' la matita o il rim, il mascara, vado a rimettere un leggero strato di lui che mi reidrata il contorno occhi, non me lo secca, non mi fa spessore e quindi è perfetto per lo scopo. Quando devo ritoccare il correttore uso o lui o il cancelletta di Maybelline, però il cancelletta di Maybelline lo conosco già da anni, questo invece è stato una scoperta di quest'anno, quindi assolutamente gli do l'Oscar come miglior correttore dell'anno. Ah, piccola premessa, inciso, questi prodotti non necessariamente sono stati rilasciati nel mercato quest'anno, però rappresentano una scoperta per me di quest'anno, perché li ho scoperti quest'anno e quindi sono i miei Oscar make-up del 2022. Altro prodotto per la base, la cipria, devo dire che è un prodotto che ho comprato da poco, ma mi ha davvero sorpreso in maniera stra-positiva. Sto parlando di questa cipria di Kiko, la Radiant Fusion, che ho nella tonalità 02, che è una cipria cotta. E ragazze, questa cipria la sto usando tutti i giorni in questo periodo, per me non ha nulla da invidiare alla sua gemellina di MAC, la Mineralize Skin Finish, anzi forse questa è più levigante, è levigante, impalpabile, opacizza il giusto, non troppo, perfetta per le pellimature, è un'ottima, ottima scoperta. Questa cipria fa parte della gamma, della linea permanente di Kiko, ma io non l'avevo mai provata, l'avevo sempre un po' snobbata, vi dico la verità, e invece, o è stata riformulata, perché io qualche anno fa l'avevo, ma non mi era piaciuta, secondo me è stata riformulata, la trovo più burrosa, più idratante. È eccezionale, provatela, perché è veramente eccezionale. Bronzer. Per quanto riguarda il bronzer, secondo me, anche qui vince, come miglior rapporto qualità-prezzo, l'Oscar, come miglior bronzer, low cost, il cream bronzer di Revolution, che ho comprato in tre tonalità, perché ce ne sono più di tre, cioè light, medium e dark, per quando sono molto abbronzata. Questo bronzer, ragazzi, è una cosa favolosa, voi lo dovete assolutamente provare, ha la consistenza di un balm, cioè sembra quasi unto, ma poi sulla pelle ha un effetto cream to powder, quindi non rimane per niente unto, si fonde perfettamente, si sfuma, che è una bellezza, guardate qua, rimane tridimensionale, quindi non è troppo opaco, troppo asciutto, e costa 6 euro, cioè è una roba, ragazze, questo bronzer, che non potevo non menzionare, non potevo non dargli l'Oscar, perché è veramente un prodotto eccezionale, tra l'altro ha una tonalità neutra, quindi non è arancione, vedete, questo è quello più chiaro, ma quello medio è già un po' più scuretto, e lo uso in primavera e in estate, questo invece dark lo uso proprio quando sono al massimo dell'abbronzata. vi faccio anche qualche svuocino, questo è il medium, vedete com'è molto più scuro, però ne ho preso tanto, considerate che ne ho preso veramente tanto, è più scuro e più freddo, quindi chiaro, medio, vi faccio vedere anche lo scuro così. Allora, eccolo qua, mamma mia, hanno una consistenza veramente bellissima, ecco, questo lo riesco a usare solo quando sono al massimo dell'abbronzatura, tipo agosto, pieno agosto, che è veramente tanto scuro, però, ecco, vedete, questo è più freddo, questo è un po' più caldo, è più chiaro, si adatta perfettamente agli incarnati chiari, e questo è comunque bellissimo prodotto. Poi non posso non menzionare anche questo bronzer, che in realtà fa parte di una collezione limitata di Kiko dell'anno scorso, dell'autunno scorso, ma io l'ho comprato quest'anno, e allora, io, non lo so, per me il bronzer più bello che abbia mai fatto Kiko, a parte la confezione che mi fa impazzire, la trovo molto particolare, molto chic, molto anche sottile, maneggevole, ma la polvere, ma che cos'è? È burro, è burro, la cialda è bellissima, burro, colore stupendo, e niente, è veramente burrosissimo, si fonde con la pelle, è un piacere indossare questo bronzer, Kiko, hai fatto un ottimo lavoro, a me piacciono anche i bronzer cotti di Kiko, ma a volte sono un po' troppo luminosi, questo è opaco, ma non è un opaco troppo polveroso, ecco, un opaco, direi vellutato, ecco, ha un finish molto vellutato, un potere anche un po' levigante sulla grana della pelle, è un bronzer che se l'avessero impacchettato in un packaging Gucci o dolce gabbana, io ci avrei creduto, perché è veramente eccezionale, quindi credo si trovi ancora sul sito, questo non lasciatevelo scappare. arriviamo ai blush, di blush ho ancora un blush di Kiko, che mi è piaciuto tantissimo, forse è il blush che mi è piaciuto di più quest'anno di Kiko, ed è della collezione Festival Glow di quest'estate, lo 01 Rosy Sand 3D Blush, mi è piaciuto tantissimo il colore, perché è un po' diverso da tutti i colori che ho, non è né rosa né biscotto, è un biscotto con una componente rosa calda, e poi ha una luminescenza, una luminosità che è veramente molto particolare e raffinata, fa un effetto sul mio incarnato veramente, veramente bellissimo, ovviamente faccio gli swatch nelle zone più sfigate del braccio, però sul mio incarnato, guarda, non è quello che indosso oggi, però vedete come si sposa bene il colore col mio incarnato, fa un effetto blush, ma non troppo rosa, che non mi piace, ma nemmeno troppo marrone, ecco molto biscotta, è una via di mezzo perfetta, texture veramente impalpabile, luminoso, che per la primavera estate mi ha fatto impazzire questa luminosità, è veramente spettacolare. A pari merito però ho un altro vincitore, che è il Blush di Milani, sapete che questo l'ho scoperto quest'anno, e me ne sono follemente innamorata, è un prodotto strafamoso di Milani, forse il prodotto più famoso, blush cotto, di un pesca delicato, ma presente, di una luminosità molto discreta, ma anche questa presente, ma raffinata, è più un pesca, questo, è più da inverno, primavera, perché è abbastanza chiaro, però vi assicuro che sul viso si vede, e regala proprio questo effetto bel min, naturale, raffinato, è veramente un blush elegantissimo, quindi siccome l'ho amato moltissimo, non potevo non menzionarlo, vedete la differenza fra le due colorazioni, ecco. C'ho un altro blush ragazzi, tra Milani e Kiko, non saprei proprio cosa scegliere, però vi devo menzionare anche questi blush, di She Glam, che sono molto più low cost, degli altri due, e che sono stupendi, blush liquidi, favolosi, che si sfumano da soli, da soli ragazze, guardate, lo metto qua, fate un puntino, ve li ho fatti vedere anche all'azione, poi sfumate, con le mani, col pennello, in tutte le maniere possibili e immaginabili, e si fondono, diventano un tutt'uno con la pelle, sono straordinari, straordinari, io non so come facciano, a questi prezzi, a realizzare dei prodotti così performanti, anche i bronzer sono ottimi di questa linea, ma i blush sono super. Salto la categoria degli illuminanti, perché io non ho illuminanti low cost, da mostrarvi, cioè non ne ho, cioè non è vero, ne ho uno di She Glam, ma non mi fa proprio, impazzire, poi insomma, saltiamo la categoria che è meglio, arriviamo agli occhi. Allora, parto dalle palette, il mio personalissimo Oscar, della palette, diciamo, delle palette più belle del 2022, lo devo dare per forza, le palette di Lamora, che trovate su Amazon, in particolare, sono tutte belle, ma questa qua, con i bronzi, che ve lo dico a fare, è la mia preferita, una palette bellissima, performante, con i matt sfumabilissimi, gli shimmer super intensi, che mi durano, gli ombretti mi durano tutto il giorno sulla palpebra, sono veramente delle palette bellissime, bellissime, performanti per il costo che hanno, e quindi non potevo non dargli l'Oster, perché mi hanno veramente sorpreso, forse sono un pelo più performante di quelle di Catrice, questa è quella rosa, guardate, anche questa bellissima, e ce n'è un'altra, che si chiama Attraction, se non mi sbaglio, con le tonalità più fredde, che è un dupe perfetto, della Glam, di Natasha Denona, questa palette mi hanno sorpreso, come resa, qualità, gamma cromatica, schema colori, sono un po' scopiazzate, diciamocelo, però la qualità, veramente, veramente top, io le avevo prese addirittura a 10-11 euro, cioè, no, 11 euro è qualcosa, adesso forse sono un pelo aumentate, perché, ne stanno parlando diverse influencer, ovviamente le vendite sono cresciute, quindi hanno alzato un pochino il prezzo, però dovrebbero rimanere sempre intorno ai 15 euro, tenete sempre ad occhio Amazon, perché a volte fa delle offerte particolari, faccio un'altra menzione però, perdonatemi, a questa palettina di Corassona, che ho usato tantissimo quest'estate, perché d'estate io uso tantissimo queste tonalità con l'azzurro, io adoro, l'azzurro è il mio colore preferito, in generale, non su di me, se voi mi chiedeste qual è il tuo colore preferito, oddio, però c'è anche il verde, oddio, amo tutti i colori, non lo so, però, diciamo verde e azzurro sono i miei colori preferiti, verde più d'inverno è l'azzurro d'estate, per me l'azzurro è il simbolo dell'estate, il simbolo del mare, cioè, mi riempie proprio, mi riempie gli occhi l'azzurro, questa palettina ho usato, l'ho usata tanto questa scorsa estate, e mi è piaciuta tantissimo, è molto performante, adesso non faccio gli swatch, perché mi sporco tutta, e non ho le salviettine, molto performante, costa poco, e quindi vi permette di, con un investimento irrisorio, di giocare un po' con dei colori, che magari non si utilizzano tutto l'anno, bellissima palettina, io lo scontro l'avevo presa sui 10 euro, forse anche meno, forse 8-9 euro, e Corazon, come vi ho detto, è un marchio low cost, da tenere sott'occhio, perché c'ha davvero delle belle referenze. Scoperta per gli occhi di quest'anno, sono state le Scandalize 24 Ore, waterproof call, di Rimmel, queste matite sono pazzesche, a parte che hanno una scrivenza, e un'intensità bellissima, poi rimangono tantissimo, non sbavano, non sbordano, sono veramente delle bellissime matite, dell'alternativa low cost, ottima insomma, quindi se non volete spendere tanto, in una matita occhi, io ce l'ho soltanto in questo marrone cioccolato, con un sottotono quasi violaceo, sì, è un sottotono vino, sì, è un marrone vino, ecco, ed è un colore che non avevo, quindi sono molto contenta, sono veramente delle ottime matite, ad un prezzo, credo che costino intorno ai 7-8 euro, se non ricordo male. Per finire, un mascara, che anche questo, diciamo, presente sul mercato da anni, ma io l'ho scoperto quest'anno, e che mi sta piacendo da morire, è veramente forse il mascara low cost, più performante, che abbia mai provato, è questo di Astra, il Subliminal X Volume Mascara 2.0, perché mi piace questo mascara, fa un effetto da subito, bello, drammatico, da volume, da lunghezza, da definizione, è bello, non fa grumi, è presente, però appunto, non è troppo pastoso, la formula appena si addensa, diventa veramente, la formula perfetta, anche se, fin da subito, è performante, questo mascara, e poi, dopo qualche settimana, dall'apertura, è proprio il top, costa a prezzo pieno, se non sbaglio, 5,90 euro, poi non so, se abbiano alzato ancora il prezzo, ultimamente, però, ve lo consiglio, è un bellissimo mascara, l'unica, forse, piccola pecca, è che perde un po' l'intensità, sulle mie ciglia, durante il corso delle ore, ma quello lo fanno tutti i mascara, anche quelli costosissimi, quindi, diciamo che l'unico che non lo fa, è il mio adorato, Sky High, Cosmic Black, di Maybelline, ma tutti gli altri, mi fanno questo giochetto, cioè, tendono un po' a disperdersi, l'effetto tende a disperdersi, durante il giorno, io l'ho indossato stamattina, è quello che indossa adesso, vedete ancora l'effetto è bello, non è intenso come stamattina, però, di tutto rispetto, tra l'altro, non si sbava, non stampa, è super resistente, è bellissimo questo mascara, veramente bellissimo, labbra, finiamo con le labbra, ho, per quanto riguarda i rossetti matt, i miei vincitori, diciamo, l'Oscar del migliore rossetto di quest'anno, lo do a questi rossetti di Milani, che ho usato tantissimo, soprattutto quest'estate, perché ce l'ho in tonalità un po' più accese, questo è nella 320 Petal, sono dei matt, molto, 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 vellutati, lo vedete anche dal bullet, che sono proprio vellutati, pieni, scriventi, colore pieno, come piace a me, confortevoli, non seccano, non fanno la striscia secca, qua all'interno delle labbra, sono, durano tanto, sono bellissimi, infatti, ne volevo prendere, volevo prenderne, anche, qualche colore, un po' più autunnale, invernale, guardate che bello questo rosa, in estate è spaziale, con un pelo di abbronzatura, ma sono i rossetti, che ho adorato di più, matte, mentre come rossetti cremosi, dal finish un po' più lucido, non posso non dare l'Oscar, a questi, cool collagen, plumping lipstick, di essence, ve ne ho già parlato, diverse volte, che io ho in queste due tonalità, 203 e 204, questi rossetti sono meravigliosi, hanno un finish abbastanza luminoso, quasi, un po' glossy, ecco, vedete, vedete che c'è un po' di, gloss in superficie, sono confortevoli, morbidi, idratanti, rendono le labbra, belle, rimpolpate, sono scorrevoli, sono come un balsamo, proprio che si scioglie, a contatto con le labbra, sono bellissimi, e costano quanto? 3,50 euro? Sono veramente favolosi, li dovete assolutamente provare, e di essence, mi sono piaciute tanto, anche le matite labbra, che qui però non trovo, dove dove vai? Ah, eccolo qua, le matite labbra di essence, queste qua automatiche, essence stay, 8 ore, lip liner, waterproof, sono pazzesche, durano un sacco, sono scorrevoli, non hanno davvero niente da invidiare, tra l'altro, questa l'avevo presa proprio per abbinarla, al rossetto di Milani, ne ho un paio, questa è la tonalità, l'altra è più nude, però non riesco, a trovarla adesso, questa è la 04, naive, naive, insomma, sono bellissimi, proprio scorrevolissime, durature, mi sono piaciute veramente tanto, e costano tipo 2,50 euro, veramente essence, con i prodotti labbra, in particolare con questi, ha fatto davvero, un ottimo, ottimo lavoro, vi ho mostrato tutto, questi sono i miei Oscar, del low cost, make up, del 2022, se secondo voi, ci sono dei prodotti low cost, che magari sono usciti, proprio quest'anno, o che avete scoperto quest'anno, e che io non ho menzionato, ma che secondo voi, meritano di vincere l'Oscar, segnalatemi, così magari li provo anch'io, e vi so dire anche, un mio parere, in merito, vi ho detto tutto, ci vediamo al secondo appuntamento, per il medium cost, un bacione, e al prossimo video, ciao!